Coach, va le novità per Ardi? Lo potremmo già vedere nella prima gara? Ma ci auguriamo di sì, non ci dovranno essere problemi, lo stiamo aspettando, quindi direi proprio di sì. Quindi tutto a posto per il visto? Sì, sì, direi. Per quanto riguarda la squadra e al completo, manca ancora qualcosa? No, i giocatori numericamente ci sono, abbiamo molti acciacchi, abbiamo molti ragazzi ancora in ritardo di condizione, perché sicuramente Shakur è l'ultimo che ci ha raggiunto, ha fatto solo tre allenamenti, stiamo recuperando Spinelli e Warren, accuso un problema tra l'altro stasera anche dopo allenamento Richardson, sono malani di stagione, peccato che si concentrano proprio questa settimana qua, che è quella imminente all'inizio. Ecco, quali le prime emozioni che si provano all'inizio del campionato? Le emozioni sono quelle di 30 anni fa, io sono 33 anni che alleno e di conseguenza per me è sempre un esordio ogni domenica, è la prima in assoluto in una nuova società, abbiamo tutti grandi motivazioni e vogliamo fare veramente bene. Cosa si sente di dire alla società, alla squadra e anche alla città? Beh, alla società devo ringraziare perché mi sta dando un'opportunità importante, ringrazio ovviamente Gianandrea De Cesare e Antonello Nevola che mi hanno voluto e la città devo dire che mi ha ricambiato subito con grande affetto, mi ha fatto vedere subito che per Avellino la Scandone è una cosa non importante ma straimportante, quindi i nostri stimoli e le nostre motivazioni sono sicuramente triplicati. Si punta in alto? Si punta a fare un buon campionato, tutti vorremmo puntare in alto, però c'è molto equilibrio, ci sono squadre pressoché tutte sullo stesso livello, occorrerà avere un po' di pazienza perché quest'anno cominciamo un po' troppo presto e soprattutto anche un pizzico di fortuna. Un ruolo importante sicuramente lo fa la tifoseria? Sì, i tifosi sono molto belli, molto caldi, li ho sempre visti da avversario ed era bello e allo stesso tempo difficile venire a giocare qua, però caricava molto l'ambiente, adesso che sono a favore ancora di più.